Ciao, ciao cittadini di Porto San Giorgio. Qua dietro di me c'è uno scenario bellissimo come potete vedere, no? Sono sulla costa calabrese e immagino che la vostra sia altrettanto bella. Però l'11 giugno c'è da combattere contro una politica della speculazione immobiliare, della cementificazione a tutti i costi, che vogliono alcuni politici locali, che vogliono alcuni che sanno solo e soltanto investire sul cemento e sul mattone per creare la distruzione del territorio. Badate, creare la distruzione, perché questo stanno facendo negli ultimi anni. Io ho sentito Giacomo, Giacomo Fileni, il nostro candidato a sindaco per Porto San Giorgio e mi ha spiegato che in pratica, pur avendo voi fra i redditi pro capite più alti delle Marche e Forza d'Italia, ultimamente avete problemi nei vostri settori tradizionalmente trainanti, vedi il commercio, vedi il turismo e pur tuttavia si continua ad investire nel mattone e tutti i politici che concorrono contro il movimento vogliono vendere patrimonio immobiliare, che è stato già in larga parte alienato, vogliono addirittura vendere la sede del comune, vogliono in pratica fare quelle classiche operazioni che portano danno a tutti e vantaggi a pochi. Benissimo, se questo vogliamo contrastare, l'11 giugno sappiamo cosa votare e come fare. Dobbiamo dare fiducia a noi cittadini, ora si tratta di Giacomo, però c'è tutto il gruppo con lui, però c'è tutta la cittadinanza, c'è un metodo, c'è un progetto e poi dopo l'11 giugno, se saremo al ballottaggio, sicuramente ci incontreremo di persona e vi darò una grande mano perché noi dobbiamo riprenderci le istituzioni, a partire dai comuni perché sono gli enti locali più importanti dove si realizza effettivamente la nostra qualità della vita. Ciao Porto San Giorgio.